La tecnologia più avanzata nasce nel cuore della Toscana, dove da più di dieci anni General Project sviluppa soluzioni d'avanguardia nel campo delle apparecchiature medicali e estetiche professionali. Macchine innovative, eleganti ed efficaci che rispondono alle esigenze più attuali. E' la cellulite oggi il nemico estetico numero uno del corpo della donna. General Project ha creato il più innovativo dispositivo professionale presente sul mercato nel campo del body shaping. MedSculpt, un sistema computerizzato per il body contouring, che introduce la nuovissima metodologia dell'elasto massaggio computerizzato e la integra con trattamenti ultrasonici e fotodinamici. MedSculpt permette di offrire una soluzione completa al trattamento della cellulite e delle adiposità localizzate. La soluzione ideale per ridurre questi inestetismi con una tecnica non invasiva e indolore. L'avanguardia della tecnologia sviluppa il sistema più innovativo per ottenere un corpo modellato, tonico e snello, una pelle più levigata, giovane e elastica. I campi di applicazione di MedSculpt sono vari. Cellulite in qualsiasi stadio, adiposità localizzate, tonificazione, trattamento pre e post liposuzione. MedSculpt agisce sulla pelle attraverso una speciale membrana elastomerica, peculiarità che la rende unica nel campo dei dispositivi per il body contouring. Un microprocessore controlla i movimenti della membrana, che con un moto ondulatorio alza, piega e comprime la pelle secondo una sequenza ogni volta ottimizzata in funzione del trattamento da effettuare. A integrare l'azione della membrana interviene l'ultrasuono che va a colpire le cellule di grasso in profondità, rompendone i legami e consentendone la rimozione per via lipolitica. La speciale membrana si dispone a perfetto contatto con la pelle e la trascina con sé, in una complessa sequenza di movimenti appositamente studiata per ogni specifica esigenza. Provocando la movimentazione compatta dello strato adiposo, permette la stimolazione della circolazione linfatica e di quella sanguigna della zona trattata, favorendo il riassorbimento dei liquidi di ristagno. Utilizzata direttamente sulla pelle, la membrana risulta piacevole al contatto e il massaggio, oltre a essere più efficace, è meno traumatico per i tessuti rispetto a quello effettuato con gli usuali corpi rigidi che ruotano sulla pelle. L'utilizzo di oli da massaggio rende il trattamento ancora più piacevole e moltiplica gli effetti benefici della seduta. La membrana, facilmente sostituibile, garantisce igiene e sicurezza per paziente e operatore. Med Sculpt è l'unico sistema in cui gli ultrasuoni possono agire in concomitanza con la movimentazione del tessuto cutaneo. Mentre il tessuto viene modellato dall'elastomassaggio della membrana, l'ultrasuono vede incrementare la sua efficace azione sulle cellule di grasso più profonde. Gli ultrasuoni sono costituiti da onde di energia meccanica che interagiscono con i tessuti biologici, determinando una rottura e una variazione di forma delle molecole. I loro effetti terapeutici sono dovuti in parte all'aumento della temperatura, in parte all'azione meccanica di micromassaggio tessutale. L'elevazione termica provoca una vasodilatazione che facilita la rimozione dei noduli e fa pervenire ossigeno ai tessuti. Le oscillazioni delle particelle dei tessuti prodotte dagli ultrasuoni determinano lo scompaginamento delle fibre e migliorano il metabolismo dei tessuti. Gli effetti dell'azione sinergica di ultrasuoni e elastomassaggio determinano una riduzione dell'edema, un miglioramento della circolazione venosa e linfatica e una riduzione e redistribuzione del grasso sottocutaneo. Il risultato è una diminuzione della circonferenza delle parti trattate, un evidente miglioramento dell'aspetto dell'epidermide che apparirà già dalle prime sedute più compatta e levigata, tonica e elastica. Ad ultrasuono e elastomassaggio, MedSculpt aggiunge un terzo manipolo, dotato di LED ad alta brillanza che permette applicazioni fototerapiche per il ringiovanimento dell'acute trattata. Tale manipolo è stato progettato per l'utilizzo in zone specifiche quali il petto e l'attaccatura dei glutei. Un pratico adattatore rende inoltre possibile l'utilizzo dello stesso manipolo per riflessologia a zonale. L'utilizzo di MedSculpt è facile e immediato. Il display touchscreen 10,4 pollici permette di dialogare in modo intuitivo con la macchina e di visualizzare tutte le informazioni necessarie. Sono disponibili ben 75 programmi preimpostati, selezionabili a 4 livelli di potenza per un totale di 300 programmi che variano in funzione della patologia e della zona del corpo da trattare per offrire un trattamento specifico e mirato. 36 programmi per il manipolo elastomerico 24 per il manipolo ultrasonico 15 per il manipolo High Brilliance Tutte le informazioni sui pazienti, i loro dati personali e i trattamenti effettuati possono essere memorizzati in un database consentendo di offrire un servizio personalizzato. L'attenzione alle forme e ai dettagli che caratterizza lo stile General Project si ritrova nel design moderno di MedSculpt, nei colori cromati, nell'alta qualità dei materiali che esprimono l'affidabilità e l'avanguardia tecnologica a cui General Project ci ha abituati in questi anni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.